Si è parlato della guerra in Ucraina anche nell'ultimo Consiglio Comunale di Cossato che si è tenuto nella serata di ieri. Tra l'altro ha approvato all'unanimità un documento importante che dice che cosa? Buongiorno. Condanna quello che sta succedendo in Ucraina che è semplicemente assurdo, inconcepibile, pensavamo che non potesse più succedere e invece c'è ancora chi riesce a fare certe cose che sono orrende. Allora, quindi anche i piccoli distretti devono prendere una posizione ferma? La cosa minima che si può fare in un momento come questo dove tutta la gente si sta rendendo conto purtroppo con le immagini che si vedono in televisione di una situazione drammatica, di persone che fino al giorno prima stavano facendo una vita praticamente come la nostra e di colpo si trovano piombati dentro una guerra assurda, in un momento come questo dove veniamo fuori da un'altra guerra molto più pericolosa e molto più grave e quindi arrivare a un punto come questo il minimo che si poteva fare era quello e quindi il segnale che è stato dato sia dal Parlamento italiano ieri e anche dei consigli comunali come quello di Cossato, di una cittadina come Cossato, è una cosa positiva che serve per dare un segnale forte anche a chi dall'altra parte sta facendo delle cose che non si pensava di dover vivere ancora. Ecco sì, infatti abbiamo appreso anche ieri dal Parlamento la cessione di fondi e di armi proprio per aiutare l'esercito ucraino. Il prossimo passo nel Bielese sicuramente arriveranno degli sfollati della guerra, insomma si sta parlando di questo insistentemente. Con l'organizzazione umanitaria stiamo già preparandoci a questo evento, a questa situazione, noi ci siamo coordinati insieme alle organizzazioni che già stanno facendo questo come l'Auser e come la Caritas per potergli dare una mano tangibile e concreta a questo tipo di situazione. La guerra è la guerra per tutti, bisogna ricordarselo questo.